YOLANDA SWITZ Queste qua sono le 3D Silk Clay Creamy Paint Allora io non ne ho la più pallida di come siano Perché me le ha suggerite una di voi Una ragazza me le ha suggerite su Instagram Che è Dolma La ragazza da cui ho preso comunque gli slime E mi ha detto Yolanda guarda ci sono delle paste Sempre della Silk Clay Lei le ha trovate in un negozio Io le ho trovate su Amazon E sono queste qua Andiamole ad aprire insieme Eccole In realtà non ne ho la più pallida di idea Per cosa servono Probabilmente servono per decorare Già in tubetto vedete Far vedere proprio i disegni Per vedere che qua si decorano proprio le cose Esce proprio come una sac à poche per esempio Ed eccole qua Escono nel tubetto Io penso che ci sia Ah no 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 non si svita Si svita quello solamente per aprire E c'è questo qua Oh vedete C'è addirittura la punta stella No vabbè Sono proprio proprio cremose Cioè è proprio una crema raga È proprio cremosissimo Veramente Io appena le ho viste Ho detto no vabbè Adesso le prendo perché Lei me le ha suggerite Credo che ogni Esatto Ogni tubetto Ha una Un cosino diverso Un'apertura diversa Questo qua c'ha tutti i buchettini Per esempio il nero Verde Ha questo qua rotondo Questo giallo color Panna Crema Non lo so Ha questo qua a forma di mezzaluna Questo viola È così Il rosa Già l'abbiamo visto Che per me è il più bello E poi quell'arancione Che è così Che poi d'altronde Sanno segnati anche sopra la scatola Vi fa vedere ogni tipo di tubetto Questi sono buoni Anche se volete decorare Diciamo qualcosa Oggi andiamo a fare un versus Perché andiamo a provare Questa pasta Silk clay creamy Contro la silk clay normale Che è questa qua Proprio pasta dura Normale Che abbiamo sempre usato tutti Vi ricordo che queste cose Le potete trovare su Amazon Ve lo ricordo sempre Allora prima di tutto Per andare a provare queste cose Noi dobbiamo andare a fare uno slime Allora intanto mi stai chiedendo Yolanda La colla della GL Allora ragazzi Io per la colla della GL Che vi ho mostrato Nell'altro video Io ho scritto Colla PVA per slime E mi è uscito Probabilmente Se non c'è più questa È perché O perché hanno messo di nuovo la scuola O perché questa qua È finita Io veramente raga Io perché mi dimentico Sempre di mettere i link In descrizione Perché ogni volta Che carico i video Mi scordo sempre Di mettere i link Però La trovate Facilmente su Amazon Se volete trovarla Allora Mettiamo Oh mamma Mettiamo la colla Eccoci qua All'interno della ciotola Io ovviamente Non vado a colorarla Perché voglio vedere Solamente con le paste Come funzia Vado a Lo sapete Io preferisco Andare ad addensare Il tutto con l'acido borico Allora ragazzi Questa colla È un pochino particolare Perché quando si vado a addensare Inizialmente Si sente questo Sentite Cioè si sente È leggermente dura È come se non si volesse Strecciare No Però Non vi dovete preoccupare Perché Schiacciandola Così In questo modo E facendo incorporare Bene L'acido borico All'interno Vedrete Che tutti questi filamenti Andranno via Come tutte le altre Colle Che vi ho sempre mostrato Però con questa Ci vuole un pochino Più di Pazienza E dovete fare così Ta 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 Maneggiarla con calma Però Ho notato Che con questa colla sia con questa colla sia con la craft planet non c'è bisogno che quando io vado a mettere le paste oddio si è sfocato tutto non c'è bisogno che io quando vado a mettere le paste di aggiungere della crema non so come mai ma è così raga siccome questa è una prova vado a spezzare lo slime a metà così lo vado a provare sia con la silk normale che lo sappiamo che viene un clay o un butter slime ma con la pasta non lo sappiamo quindi allora vedete che già si è ammorbidito un bottissimo adesso è arrivato il momento di sinceramente di andare a provare prima la pasta e la pasta si ciao di andare a provare prima le creme le creme silk clay sembra non so sembra non lo so una pubblicità di una crema per il viso però non lo è allora quella che voglio andare a provare è questa eccola qua oddio mamma mia è è stranissima no vabbè no vabbè raga ma è bellissima guardate sembra come se andassimo a decorare una torta no vabbè meraviglioso vado a mettere un altro po' e sinceramente adesso lo vado a mescolare al mio slime e vediamo se il mio slime si indurisce vediamo la risa che ha lo slime devo dire che puzza non è molto profumata come pasta non mi sembra che lo slime si stia trasformando in un clay no assolutamente no è come se avesse colorato solamente lo slime non ha fatto nulla di particolare lo sapete cosa mi sembrano mi sembrano tipo le pitture quelle là per per gli squishy avete presente? ebbene sembrano quelle infatti ho le mani praticamente quasi tutte appiccicose anzi sta andando un pochino ad indurire addirittura il mio slime sto facendo un po' di fatichella nell'andarlo a mescolare si ragazzi allora io le mie aspettative probabilmente erano troppo alte per queste creme credevo trasformassero il mio slime in un clay in realtà assolutamente no queste qua sono buone per colorare lo slime ma non mi danno uno slime butter anzi me lo stanno andando quasi ad indurire e ha una consistenza veramente molto molto strana e le mie mani sono veramente molto appiccicose con questo qua sicuramente anche le altre saranno così quindi boh poi l'odore non è dei migliori oddio io le ho prese proprio per provarle perché ero veramente molto curiosa ma il mio il mio giudizio momentaneamente non è per niente positivo ma proprio per niente positivo perché credevo fossero sinceramente fossero migliori qua mi dice che sono delle pitture quindi è proprio come se fossero di colori è carina solo per colorare lo slime ma poi per il resto non è niente di particolare ragazzi tanto lo sappiamo che con la pasta verrà uno slime carino perché comunque noi fa ma che è? è chiuso ah è proprio proprio chiuso infatti si vede perché è veramente molto morbida vedete molto morbida e che tutto dire anche perché ci sono delle paste comunque su amazon a differenza della silk clay che sono molto più morbide magari devo andare a comprare delle nuove paste così faccio qualche confronto tra le paste allora vado a mettere metà pasta così che vedete e non è molto morbida però voi andatela a maneggiare con le mani in questo modo e mettetela all'interno dello slime come vedete in questo caso che l'ha aggiunta appunto all'interno dello slime non c'è stato assolutamente bisogno di mettere della crema perché la pasta si è proprio unita perfettamente anzi lo slime è quasi sciolto l'altro pochino ok quindi mettiamo un pochino di di acido borico allora la silk clay è veramente molto strana perché a volte è dura come la pietra mentre altre volte invece non si riesce neanche a mescolare perché si scioglie me lo sapete spiegare voi? voi la usate? la trovate su amazon? in altri negozi? non lo so ditemi voi dove la trovate io sto mettendo altro acido borico perché la mia pasta quasi stava sciogliendo ma what? va bene mettendo l'acido borico come vedete la situazione si sta migliorando e come vedete lo slime è venuto anche molto molto meglio e decisamente meglio rispetto all'altro è venuto proprio un butter slime cosa che io credevo venisse anche anche l'altro tutte le paste probabilmente anche al di fuori della silk clay avrebbero fatto uscire uno slime cioè uno slime migliore questo qua si sta quasi indurendo ma che probabilmente questo forse sono delle paste che ovviamente come anche queste però eh no quindi il ragionamento non regge che asciugano all'aria però anche queste qui ragazzi asciugano all'aria eh quindi non c'è paragone che regga quindi ragazzi nulla io vi dico se magari la trovate su amazon se magari vi è capitato di cercarla e di trovarla non la prendete questa ragazzi perché non ne vale la pena esce uno slime praticamente normalissimo anzi puzza pure questo qua la silk clay anche però dopo un poco si toglie l'odore è proprio una cosa proprio guardate qua questo qua ve lo giuro ragazzi è la cosa più bella del mondo proprio il suono il rumore è proprio bello con questo è tutto lasciate un bellissimo pollice in su per questo video arriviamo almeno a 7000 like non chiedo tantissimo ragazzi iscrivetevi attivate la campanella in descrizione ci sono tutti i link utili del mio canale e niente alle ore 18 ci sarà un nuovissimo video quindi non perdetelo io vi mando un bacio un abbraccio noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14 e 30 con un nuovo video e più tardi alle 18 con un nuovo video bye bye